Dallo alto, dalla parte più alta verso i tredici laghi, Val Germanasca, a Prali, qui la parte più alta, la Seggiovia, guardate, 2.300 metri d'altezza e ancora si sale. Gli Alpi Valdesi, gli Alpi, le montagne che i nostri avi andavano su e giù, lottando e rifugiandosi in tempi in cui non era concesso a loro la libertà. Queste terre sono meravigliose, meravigliose. Che Dio benedica questa terra, queste montagne e tutto il popolo, il popolo valdese, che possa riscoprire la fede di coloro che hanno donato la loro vita nel passato. Grazie. Grazie. Grazie.